Allora vediamo ragazzi, oggi non capisco cosa giochiamo in modo rado, scriviamo un po' cosa come hobby facciamo, ok raga? Ehm, aspettate... Ok raga, oggi facciamo un... spero che sia un escape, spero. Vediamo se è un escape... Non è un hobby, no perchè poter fanno quelle cagate rare che non è immaginabili, immaginabili. Cos'è? Ah, un fottutissimo gioco non bello, che è ancora popolare stranamente. Non so trovare nulla... Nooo, ma no, no, io non... A me non mi va, perchè a me anche perchè mi si blagherebbe tutto. Non so roba cosa proprio... Ok raga, dopo un tot di tempo ho scelto questo. Mamma mia! Oh, wow! Ok raga, giochiamo! Molto tempo prima, quindi... Molto tempo prima, quindi... Faccio così... La 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 la... Ehm... Ehm... La 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 la... Ehm... Ho già fatto un po' la... Così... eh no ecco non arrivate comunque dai si sta sto bene prendere sempre i tesori perchè vi danno prendere sempre raga vi giuro al meglio perchè cosi con i miei tesori ma di forse c'ho fatto di avere qualcosa in più io non avevo mai scavato prima da solo non lo c'è e un'altra cesta non lo c'ho fatto non lo c'ho fatto non lo c'ho fatto ah ben 13.000 bene e quanto costa? ah 7 ma è proprio un po' troppo questo è un po' troppo non lo c'ho visto non ci ho visto che costa così tanto non c'è 4.000 euro qua non lo c'è non lo c'ho ancora un po' Questa è molto più Io la scaverei E' un po' quella No, quella non è il sabbio No, comunque scavano, vado ancora più E' una beppena Raga, sappiamo il tunnel? Un tesoro La raga, io ce l'ho fatta E' un po' di nuovo E' un po' di nuovo Un po' di nuovo Però sono Beh, sono un bel po' pro E' un po' di nuovo 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 Non ci credete E' un po' di nuovo 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 c'è già spesi un top c'è già spesi un top ma non è giusto raga no mi fa schifo no sempre mi sto colpendo no sempre ti schifo di fipi no raga potevo no non è giusto gioco così ma dai penso che abbiamo questo gioco si facciamo anche più soldi si va a cagare è venuto l'altro adesso ma no oh il tesoro io lo prendo sempre così almeno chissà cosa c'è dentro di special si fa un po' fatica sempre se andaccino non arriva l'altro e vabbè non è mai arrivato da questo livello e non lo sempre le ceste dopo le mine mi toglievano tutto invece ci avevo ancora quella brutta vecchia l'ho avvenuto era già era già finito gioco però mi toglievano tutto è difficile però non ci vuole un tog di termine non ci vuole un tog di termine ma non ci vuole un tog di termine ora che c'è stai? non so se ma quando è un po' è fennuto vai c'è il video oh oh no and how it works e però cioè ci stiamo tenendo ben più che non so sembra e la pepena adesso si risierà 2400 però non è tanto aspettate devo andare in bagno eccomi raga una bella riga qual'era? qual'era il mio? non lo credo più serve a questo se è lui credo si 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 è lui si era quello che fa ma è la nuova che costa un bel po' però ce la facciamo non lo credo non lo credo è non lo credo è mamma mia ci vuole un po' di tempo ecco 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 un'altra ecco un'altra ecco un'altra ecco un'altra ciao Grazie a tutti.